Ora parliamo della festa della donna che si celebra domani 8 marzo, ma a far riflettere intanto ci sono i dati, quelli relativi al lavoro femminile ma non solo. Un 8 marzo amaro quello che si celebra quest'anno con l'emergenza sanitaria che pesa tra gli altri sul mondo del lavoro. Drammatici sono i dati relativi soprattutto all'occupazione femminile. Nel corso del 2020 le marche hanno registrato 26.000 occupate in meno con i livelli di occupazione paragonabili a 20 anni fa. I dati elaborati dalla Will parlano di un tasso di disoccupazione femminile all'11% rispetto al 5,8% degli uomini, mentre il tasso di inattività è passato dal 35% al 40%. Numeri che se sommati con quelli degli infortuni sul lavoro rendono il quadro sconfortante, visto che a fronte di un numero minore di lavoratrici è aumentata l'incidenza di incidenti rispetto al totale. Nel 2019 poco più di un infortunio su tre vedeva vittima una donna. Nel 2020, con oltre 6.000 denunce Inail, si è sfiorato il 40%. Questo anche perché il Covid si è diffuso soprattutto nel settore della sanità e nell'assistenza sociale. C'è poi l'ambito familiare. Tra le mura domestiche, a causa della permanenza forzata, sono aumentate le violenze. Le 210 chiamate al numero verde registrate tra marzo e ottobre 2019 sono diventate 223 nello stesso periodo del 2020. E la crisi generata dalla pandemia non ha risparmiato neppure il comparto agricolo, quasi un terzo del quale parla al femminile. Sono oltre 7.000 le imprese agricole marchigiane a guida rosa, con un calo nel corso del 2020 del 3%, secondo un'elaborazione di col diretti Marche. La pandemia ha inciso su tutte le attività, dagli agriturismi agli agriasilo e agrinido, sui centri estivi, i servizi di agricoltura sociale per disabili e anziani, disagio sociale. L'8 marzo, peraltro, segna anche la data delle primissime misure restrittive adottate sul territorio marchigiano, con il DPCM che colpiva un anno fa, per la prima volta, la provincia di Pesarurbino. Gran parte delle difficoltà delle imprenditrici agricole ha origine dal Covid, perché oltre alle restrizioni, le donne hanno avuto anche un ruolo nella gestione della casa e nella cura dei familiari.